salve cari amici di turismo medico albania qui siamo a vatan medica specializzata da 15 anni nel trapianto dei capelli e abbiamo la specialità di fuè e zafiro e in questo momento già si lavora siamo al terzo paziente siamo giovedì andiamo a vedere qui si fanno le consulte ogni paziente che viene eccoci qui stiamo già lavorando il terzo paziente metodo fuè e zafiro miriamo 4500 bulbi vieni a proteggere la tua bellezza naturale ciao